buongiorno a tutti allora magliettina nero azzurra quella vecchia si fa per dire perché c'è ancora digital bits forse prenderò quella quella nuova della paramount anche se durerà un anno perché il contratto è per un anno poi probabilmente tra un anno cambierà un altro sponsor certo che se cambiamo gli sponsor tutti gli anni uno è costretto a prendere una maglietta all'anno quella lì di paramount quella con la striscia in mezzo la prenderò perché mi piace mi piace molto mi ricorda l'inter degli anni 60 degli anni 70 eccetera molto vintage per intenderci e quindi la prenderò per quello ma tendenzialmente non doderò molto per la quale di prenderla perché cioè a me io non sono uno che prende magliette su magliette come poi tutti dicono andate su questo non posso andare sui siti c'è un amico che c'è al negozio di vestiario nero azzurro quando prendo qualcosa la prendo da lui comunque ragazzoli dobbiamo parlare di questa vittoria dell'inter sul sardisburgo 43 non ho molto parlato di queste amichevoli di queste cose di calcio mercato perché sapete a me piace il calcio giocato il calcio mercato francamente a meno che non c'è l'acquisto clamoroso di un giocatore super fortissimo non so mi prendono mbappé anche se lo reputo un bimbo minchia tanta roba mi prendono holland l'autaro holland è una coppia che spacca ragazzi spaccherebbe alla grandissima ma non non possiamo sicuramente prendere è più probabile che l'autaro vada al city tra un paio d'anni che noi che prendiamo holland ma anche se dovesse arrivare il super presidente perché come al solito nel gruppo cagariso il cagariso il cagariso signori venisse anche roffeller e paperon de paperon no paperon de paperoni no perché è più tirchio di quello lì quindi meglio di no un roffeller che guadagna 100 miliardi di dollari all'anno e che quindi può anche buttare via due miliardi così sul mercato come bruscolini perché gli escono dalle orecchie non può perché se l'inter fattura 500 milioni sul mercato ne può spendere un terzo quindi anche se arriva a quello strarico se l'inter fattura 500 milioni facciamo 600 così può spendere 200 milioni all'anno secondo noi non fatturiamo 500 milioni perché stiamo tornando legger lentamente verso i 400 ma la pena col fatto che finalmente gli stadi sono riaperti e quindi si comincia a guadagnare quindi l'inter può spendere 100 120 milioni esagerando sul mercato perché fattura quella cifra lì quindi anche se arriva a quello strarico ti può fare lo stadio ti può fare ma non può mettere un centesimo di suo sulla a meno che non fa i numeri d'alta scuola di stile pari san germain ma state tranquilli che se l'inter si mette a fare i numeri di stile pari san germain che è stato babbo natale e mirati arabi uniti a pagarci mbappé la uefa ci prende ci caccia dall'europa per cinque anni perché a loro dell'inter non gliene frega una beata giovanna che l'inter faccia la champions o meno a quelli della uefa gli frega fino a un certo punto gli frega che la c'è più nella faccia nel real madrid il pari san germain del barcelona le squadre inglesi il bayern monaco ma delle squadre italiane che giochi l'inter il milan la juve la fiorentina la lazio la roma ecc qualsiasi va bene perché per loro fanno solo numero già l'anno scorso l'inter che mi arriva in finale perché succede sempre tutti gli anni che c'è l'outsider che becca la corsia preferenziale perché ormai sono due o tre anni che in champions esce fuori che tre squadre fornarsi arriva ai quarti e tre squadre fortissime una sfigata finiscono da una parte e quattro outsider o comunque squadre non fortissime finiscono dall'altra parte questo caso è successo all'inter al napoli al milan e al benfica di essere nella parte di lì e l'altra parte c'era il city e il real madrid eccetera 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 successo anche l'anno precedente quando il celsi andò a battere il city della finalissima è successo noi in real madrid liverpool invece vederò fuori una partita bella bella tosta bella equilibrata meritava il liverpool come meritava di più l'inter ma vabbè ragazzi miei nel calcio conta fare gol non se giochi meglio dell'avversario quindi noi abbiamo giocato meglio ma il city ha segnato noi siamo dei curucu che non hanno segnato comunque andiamo a questo salisburgo inter con pronti via vacata di summer ma c'era un terreno veramente ai limiti della praticabilità se fosse stata una partita di campionato l'avrebbero sospesa quasi sicuramente siccome era un amichevole chi se ne frega cioè se la sospendi poi non la puoi recuperare e quindi hanno lasciato giocare lo stesso però sembrava di vedere la partita di fantozzi quando arriva la nuvoletta e c'erano le pozzanghere in cui uno la prendo io di testa e finisce dentro nel nel buco che si è creato e poi a nuoto eravamo a quel livello lì e quindi lui cosa fa esce scivola perde palla e il buon conate segna tra l'altro buon conate un attimo prima aveva sbagliato il calcio di rigore tirando al terzo anello pareggiamo subito perché è su un cross del solito di marco se non erro il buon paulovic per paura di correo di turamo di turam probabilmente interviene scivolata classico colpettino sotto che è un palla che si alza e beffa il portiere poi passiamo in vantaggio con devrae che sfrutta un pseudo passaggio tiro nel compagno la palla passa agli arriva lì lui lì da solo come un curucù controlla calcia spiazza al portiere ma non era voluto cioè lui l'ha controllata al portiere ha scelto un angolo per gara lì tra il dischetto del rigore l'area quando tu ti trovi l'attaccante liti la porta ragazzi miei più di sette metri per quanto un portiere possa essere due metri esagerando non la può coprire tutta quindi quando si trova l'attaccante lì cerca di anticipare quello che l'attaccante vuole fare battezza un angolo se gli va di culo la prende e se gli va male e quindi passiamo in vantaggio poi il solito con a te pareggia ripassiamo in vantaggio con correa che sfrutta un cross di danfres bello bello ma è proprio bello l'ha proprio visto e cercato a palombella gliela ha messa sulla testa lui è andato lì alla paolo rossi se mi permettete la cosa blasfema quasi in ginocchio così però non la mette all'angolo anziché schiacciarla come con la polonia o come con la germania però più era più simile a quello della polonia secondo palo colpo di testa però l'ha messo all'incrocio opposto quindi andiamo 3 a 2 non facciamo il tempo a essere contenti che salisburgo pareggia sbaglia un altro calcio di rigore per farlo di bisec stavolta al tiro lo calcia fuori si vede che il fatto che c'è sommer in porta che si sa che impara rigori fa sì che gli attaccanti esagerino o l'angolatura del tiro la potenza del tiro e finiscono con lo sbagliare perché sapete benissimo sammer ha parlato un rigore a messia mondiale eliminando l'argentina con la svizzera ha eliminato l'italia parlando un rigore all'andata e un rigore al ritorno a quello là che non mi viene in mente l'italo brasiliano l'italo qualcosa che si è mangiato due calci di rigore e quindi magari si spaventano e finiscono con lo sbagliare poi barella si mangia un gol che segno anch'io tirando beccando in faccia al portino non lo so come cavolo ma porca di quella miseria ma il portiere ti esce così come escono sempre è lì praticamente in ginocchio modello gesù cristo in croce alzalo sto pallone sul capino no vedi il suo faccione gli alzi un po il palloncino di un metro non c'è bisogno di alzare perché il portiere è in ginocchio da te con le braccia alte che ti viene incontro tu gli alzi il pallonbello sul capino lui non può saltare perché è in ginocchio e non è invece no tutta potenza per qua sul sul faccione l'ha preso sul faccione qua almeno prendilo bene in faccia che così impara di pallonate in faccia quante ne ho prese a giocare a calcio no qua sulla guancia l'ha preso perché se anche girate l'ha preso qua sulla guancia o se no saltano almeno ti stende siamo freddi non siamo freddi creiamo tanto è vero che il sanisburgo ha sbagliato due calci di rigore ma l'inter di occasioni ne ha create e le ha sbagliate come al solito segnando però quattro gol perché poi il buon aslani con un lancio da limone ha visto il buon sensi che ha controllato ha detto di tacco no ha controllato con la cuscetta di pollo col polpaccio diciamo così di esterno che sembra quasi con il tacco ma l'ha preso un po con tutta la parte bassa della gamba se l'è portata avanti si è presentato davanti al portiere gli ha fatto vedere a barella come si segna quando il portiere ti esce incontro piazzando il pallone nell'angolino al novantesimo indi per cui una vittoria 4 a 3 problema è che hai regalato tre gol hai regalato due calci di rigore e non sempre trovi la squadra che sbaglia due calci di rigore è vero che c'è in porta un pararigori che magari qualche rigorino quest'anno te lo para difficilmente riuscirà a battere il record di andano ris perché sa vera c'è l'anno prossimo siamo da capo ragazzi che abbiamo bisogno un portiere è arrivato a udero stankovic andrà alla sandoria avremo un vero a udero una meno dispiace io l'anno scorso l'ho avuta al fantacalcio insieme a gattone silvestri problema è che io sceglievo quasi sempre silvestri e a udero l'anno scorso un paio di rigori gli ha parati anche lui e lui giustamente non l'avevo messo al fantacalcio sclerato ma l'altro che mi dava più sicurezza al buon gattone poi è logico quando il buon gattone andava a giocare contro determinate squadre metteva il buono udero che senza infamie senza lode qualcuno ha detto scorso e scorso dell'audero non dispiace arriva da un brutto infortunio alla spalla quindi bisognerà vedere come starà eccetera eccetera però c'è summer quindi siamo abbastanza tranquilli con summer che non è scarso è un para rigori è un portiere che comunque sui calci di rigore ti mette un po di ansia perché vai ad affrontare uno che i rigori li para e quindi non è male comunque andiamo a vedere un attimino come è scesa in campo l'inter e poi dopo le varie sostituzioni non dovuti perché ho visto sette minuti di highlight quindi non posso dare voti eccetera eccetera comunque siamo scesi in campo con summer in porta bastoni devrai e d'armiani in difesa danfris barella cialanoglu miktarian e di marco a centrocampo e turam e correa in attacco tenete conto mancava lautaro quindi già il fatto che manchi lautaro almeno un gol in più dove dovevi calcolare perché credo che l'anno prossimo il buon lautaro potrebbe arrivare potrebbe a 22 24 gol l'anno scorso il campionato andiamo a vedere lautaro mi sembra che è arrivato a 20 o 21 comunque è sempre in progressione anno dopo anno aumentano tutti gli anni andiamo su santa wikipedia così vi dico il campionato l'anno scorso quanti ne ha fatti 21 21 21 reti ha giocato tutte le partite tutte 38 le partite quindi speriamo che qualcuno guardi giù e l'anno prossimo le possa giocare ancora tutte poi è logico qualche partita entrava a gara in corso qualche partita usciva intorno al sessantesimo settantesimo quindi 38 presenze ma tutti i 90 minuti era un po difficile in champions league ne ha giocate 13 però ha segnato pochino deve segnare un po più di più in scelta in champions ha segnato il supercoppa e il coppa italia ha giocato cinque partite perché l'inter ha giocato cinque partite ottavi una partita quarti una partita semifinali due partite siamo quattro alla finale cinque segnando tre gol che non è male quindi in totale 31 e 3 24 e 3 nelle coppe ecco il champions deve segnare di più 13 partite tre gol sono troppo pochi comunque 21 24 27 28 gol in 57 partite media un gol ogni due partite non è male però ragazzi miei con san luisburgo non c'era quindi si spera che ci sia con e soprattutto la squadra poi è stata rivoluzionata nella ripresa perché sono stati sostituiti tutti sulla carta contro il il mozza la prima di campionato ormai manca una settimana 9 giorni 7 giorni 8 giorni mamma mia siamo già inizia già il campionato l'estate sta finendo ma a me non cambia un kaiser perché tanto lavoro fino a metà ottobre quindi non mi cambia nulla poi dopo per me inizia l'estate nel senso inizia il freddo in casa a fare video a stressarvi eccetera comunque con il mozza teoricamente questa potrebbe essere la formazione con acerbi al posto di devrai quindi la solita formazione con bastoni devrai d'armian quadrado danfri sulle fasce barella c'è la nobito mkhitaryan o frattesi e di marco poi bisognerà vedere gosens e resta o no perché gosens non so se fan partire non lo fan partire ho detto non sto seguendo il calcio mercato proprio perché e arriva questo arriva quello arriva quell'altro no non arriva più no però dopo prendiamo quello lì e che due coglioni cioè veramente io quando arrivo inizia al calcio mercato mi rompo veramente le palle poi ci fossero delle certezze un conto quando ho delle certezze ok c'è la firma c'è il giocatore sul balcone che saluta ok così mi piace ma tutti i giorni che mi sparano 250 nomi sul possibile quarto attaccante dell'inter perché per ora c'è solo turan correa e lautaro sono tre poi c'è sebastiano e sposa sempre che non l'abbiamo già spedito da qualche parte ci sarebbe anche un mulattieri sempre che non l'hanno già spedito da qualche parte c'è da decidere se io se si non lo venderei neanche a morire il problema di sensi ragazzi miei è uno solo che è sempre rotto perché se no in questo centrocampo qua li mette via tutti mette via barella mette via cialanogo mette via pittaria mette via slani li mette via tutti cioè sensi è qualcosa di eccezionale veramente il problema sensi e matteoli ragazzi miei sensi e matteoli un matteoli matteus berti messi insieme perché un po tutte le caratteristiche sa inserirsi c'è piedi buoni come matteoli c'ha il tiro certo magari matteus era un po esagerato però un matteoli berti messi assieme magari non però sa inserirsi e ha i piedi buoni sa passare sa lanciare sa segnare può fare anche il 10 dietro le punte può fare il gioco il giocatore davanti alla difesa magari no perché c'è sempre il rischio che essendo piccolino quando si trova davanti certi marcantoni e certi arbitri che lasciano correre le spallate con la gente che viene letteralmente buttata fuori dal campo l'arbitro lascia correre perché lo considera una cosa di gioco un'azione di gioco vabbè però sensi ragazzi miei tanta roba il problema è che fa una partita e poi sta fuori quattro partite poi rientra fa una partita sta fuori altre quattro partite se ce l'hai come riserva tanta roba se spunti su di lui ragazzi è un problema perché quello non ti dà garanzie di tenuta fisica altrimenti ragazzi sensi è tanta roba e l'abbiamo visto quando giocavo col barcellona ancora qualche anno fa ed è ancora giocatore giovanissimo frattesi è tanta roba e io continuo a dire che per me il centrocampo dovrebbe essere barella ciannoglu frattesi molti dicono eh ma barella e frattesi ma dalle frattesi insieme parlano la stessa lingua si trovano che è una meraviglia si mettono da parte uno dall'altra perché frattesi l'ha già detto io posso giocare tranquillamente a centrosinistra e barella centrodestra lasciamo c'è la rinoglu centrale dietro davanti alla difesa con possibilità di spostarsi in avanti ed eventualmente uno dei due retrocede un attimino a chi ha a difendere per dire basta trovare i giusti attentatismi da centrocampo siamo messi stupendamente bene dobbiamo risolvere il problema della dell'attaccante e se lukaku non si metteva a fare il deficiente fatto il deficiente adesso starà lì al celsi perché la juve probabilmente tiene vlaovic perché giustamente al celsi di cazzo volete 40 milioni 50 viene diamo 10 e 15 e silenzio per un giocatore l'anno scorso ha fatto ridere vi diamo lukaku non è che vi diamo cu 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 quindi 10 15 milioni e vi andare quelli ne vogliono 40 chiuso ciao 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 a meno che ragazzi miei non ci sia la sorpresona di del 31 di agosto che ci ha preso per i fondelli tutti quanti con sta storia e viene fuori che era una bufalata per fare in modo che il celsi ce lo rendesse di nuovo in prestito e poi viene fuori la verità attenzione che non succede è fanta mercato però io alla simpatica lucrezia capuano gliel'avevo buttata lì attenzione che non abbiano fatto la genialata comunque ragazzoni volevo andare a vedere prima di salutarvi quando sono entrati i vari giocatori durante la partita per capire quanti minuti hanno giocato allora vediamo un po le sostituzioni da quando sono iniziate non penso nel primo tempo ma penso nel secondo gnaus eccoci qua allora le prime sostituzioni sono arrivate come sempre al sessantaduesimo è uscito da un presentrato quadrato è uscito d'armiano è entrato bisse 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 poi al sessantatresimo quindi è uscito barella entrato frattesi ecco queste sono cose che non mi piacciono perché se barella comincia a essere sostituito tutte le volte al sessantatresimo sessantaquattro sessantacinquesimo eccetera da frattesi non vorrei che poi mi si imbufalisce è vero che avremo tante partite da giocare è vero che come al solito ci mettono il derby dopo la nazionale sembrano che farlo facciano apposta no per facilitare il milan perché se non vince un derby ogni 5 6 partite non sono contenti allora per dargli una mano c'è che così almeno all'inter gli argentini gli arrivano al venerdì giocano al sabato poi ci sono tutti i nazionali che magari sono stanchi loro hanno preso 8 scappati di casa e non hanno tanti vabbè battutaccia no perché milan ha preso 8 giocatori uno ha scritto si sono andati a citofonagli e li ha presi tutti quelli che di citofonavano vabbè sorvogliamo vedremo come ha scritto sarà il campo a decidere il campo l'anno scorso ha detto che quattro derby su cinque li ha vinti link purtroppo non abbiamo fatto l'un plan che mi aspetto quest'anno vedremo mi aspetto e non è che dopo è scontato ve l'ho già detto sono le mie attese non dirò mai il 17 di settembre 16 settembre quando ci sarà il 17 diciamo facile città il gigione dice sempre che per lui il derby pretende determinate cose ma non vi dirà mai vinciamo sicuro vinciamo facile vinciamo qua vinciamo su vinciamo giù perché il derby è sempre una partita a sé comunque al 63 mesi è entrato fartesi per per il bombarella poi al settantesimo è uscito devrai è entrato gosens quindi gosens a fare o meglio magari di marco a fare il terzino dietro e gosens spostato davanti poi è entrato sensi che ha giocato venti minuti se sì come diceva la buona lucrezia lo fai giocare venti minuti venti minuti mezz'ora lo alterni con bichitari anche dolorischi perché quello si già hanno detto che se non sta bene un'altra volta poi è entrato aslani per celanoglu poi è entrato esposito per correa all'ottantaduesimo lazaro per per turam e l'alexander stankovic centrocampista non portiere per bastoni e questi sono stati tutti i cambi no a poi al 90 più due ha pensato bene di togliere di marco per far giocare il buon stabile che è il giovane della primavera quindi praticamente li ha sostituiti tutti che dire manca manca un difensore manca un attaccante centrocampo penso che abbiamo il centrocampo più forte della serie a se prendi i sei giocatori che abbiamo sei sette giocatori non credo che in serie a ci sia un centrocampo migliore del no magari il nostro non sarà il migliore come direbbe giosè morigno io non sono il migliore allenatore del mondo ma nessuno è migliore di me e quindi potremmo dire tranquillamente in serie a non abbiamo la miglior centrocampo d'italia ma nessun centrocampo è migliore del nostro problema è la difesa che va messa a posto e spero che la riescano a mettere a posto per tempo e non che succeda come l'anno scorso che creiamo settecentocinquanta occasioni da gol ma basta che gli altri vengano in avanti tre volte ce ne fanno quattro perché l'anno scorso veramente eravamo una cosa oscena creavi il mondo 36 occasioni da gol ma anche l'anno del che abbiamo buttato via lo scudetto 36 occasioni da gol a partita gli altri ne facevano sei le partite finivano 2 a 2 o addirittura riuscivi anche a perdere 2 a 0 creando 36 occasioni da gol contro le sei degli avversari che vincevano 2 a 0 però era colpa di inzaghi ragazzi l'allenatore deve mettere in grado la squadra di creare occasioni da gol e inzaghi fa in modo che la squadra crei occasioni da gol se i babbalei sbagliano 30 occasioni da gol la colpa non è di zaghi sono dei babbalei che sbagliano 30 occasioni da gol ma io allenatore mi ho messo nelle condizioni di fare bel gioco creare occasioni da gol eccetera 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 ed è quello che si chiede a un allenatore se poi la squadra entra in campo che facile chi se ne frega se ho sbagliato il gol tanto ne creiamo una marea la colpa non è dell'allenatore è dei babbalei che sbagliano i rigori che sbagliano i gol facili che prendono gol da deficienti eccetera 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 e purtroppo questa situazione è storica dell'inter da quando la seguo e da quando sono andato a vedere anche la sua storia noi buttiamo via i campionati perché si sbagliano una marea di gol perché si sbagliano i calci di rigore e poi vabbè c'erano anche altri motivi di cui non mi va di stare a parlare ma quelli sono limitrofi a un determinato periodo io parlo della storia come quando regalammo lo scudetto dopo 44 anni al milan dove all'ultima giornata milan con un punto in più dell'inter e inter e milan sono riusciti a perdere tutte e due all'ultima giornata ditemi che non hanno fatto apposta perdere per lasciare che sti poveri scappati di casa dopo 44 anni che ve lo ricordo 44 anni senza vincere un campionato o una coppa italia dal 1907 al 1950 51 visto che ci stressano noi citati senza vincere la champions 44 anni e voi siete stati 44 anni senza vincere un campionato e ve l'abbiamo lasciato vincere noi perché come dei curucù abbiamo perso l'ultima partita non so contro chi giocava l'inter non ho guardato non ho voluto guardare per non incazzarmi ancora di più perché lì secondo me è stato regalato come è stato regalato quello di due anni fa come no ma è colpa di zanni che ha sbagliato i cambi eccetera no è colpa di uno che ha sbagliato il rigore di un altro che ha sbagliato i rigori di un rigore che è andato contro solo contro di noi poi da quel momento lì un rigore del genere non si potrà più dare ma intanto l'abbiamo presa in quel posto sei punti che se ne vanno a fare in culo tra cui due in uno scontro diretto che faceva già la differenza quindi i ragazzi miei però è sempre compagni e zaghi perché non mi piace non mi sta sulle balle io aspetto maggio come tutti gli anni e a maggio tirerò le somme per ora questo questo allenatore mi sta facendo godere quasi più di conte conte ha vinto lo scudetto ma questo mi è arrivato in finale di champions e credo che conti molto di più la finale di champions visto che l'inter non è che in finale di champions ci va spesso visto che è solo la sesta che facciamo detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio 43 al salisburgo finché mi insegnano 4 con la partita ne possiamo prendere anche 3 ci mettono la firma andare avanti tutto l'anno a vincere 4 3 5 4 4 3 5 in campionato in campionato in Champions in Coppa Italia va benissimo dove devo firmare arriviamo a fare 190 gol in campionato ne prendi però 120 100 130 che te frega da 38 la differenza è 190 gol e ne prendi 152 190 gol fatti 152 subiti 38 vittorie ma benissimo ragazzoli ci vediamo alla prossima chiusa forse ho sbagliato perché ho fatto 5 a 4 non 4 a 3 quindi è 30 per 4 120 162 gol perché 152 gol 8 per 4 32 4 per 30 120 152 gol fatti quindi 4 gol a partita 4 3 e ne subisci 3 per 3 9 3 per 108 152 gol fatti e 108 subiti no, 108 non va bene perché la differenza deve essere 38 e quindi devono essere 104, 104 gol subiti no, 114 gol subiti perché più 38 fa 152 vabbè, quello che è importante è vincerle che dovenia mi sono dilungato troppo ci vediamo alla prossima ciao